All'indomani dell'esito delle primarie si delinea la composizione dell'Assemblea Nazionale e Regionale del Partito Democratico. In provincia di Salerno il voto non ha lasciato ombra di dubbio, il 70% degli elettori infatti si è schierato con Bersani e addirittura l'80% ha scelto Amendola come segretario regionale. La provincia di Salerno era chiamata ad eleggere 17 delegati all'Assemblea Nazionale e 51 alla regione e così nel Collegio Agropoli, quello che comprende i territori del Cilento e Vallo d'Indiano, riescono ad entrare in Assemblea Nazionale Franco Alfieri e Antonio Valiante e con i resti potrebbero entrare Rosa Campiglia e Antonio Calandriello. All'Assemblea regionale per il Collegio Agropoli si affermano Angelo Vassallo, Mirella Mazzali, Giovanni Caggiano, Giovanna Balbi, Carmine Laurito, Nicola Parisi, Angela D'Alto, Donato Pica, Lucia Salvato e Daniele Caroccia. Intanto ad essa scalpore l'affluenza alle urne. In campagna l'auspicata grande partecipazione popolare non c'è stata. Secondo una stima tendibile fatta dal partito, i votanti alle primarie sarebbero fra i 230 e i 250 mila, molto meno dei 420 mila che il 14 ottobre 2007 elessero Walter Vertroni, leader nazionale e gli annuzzi segretario regionale.